Gentili signore e gregi signori, care catechiste, cari genitori, in questa sera, dalle ore 20 e 15, avremo l'incontro per i genitori dei ragazzi della prima media e quinta elementare. Domani martedì, sempre della stessa ora, sempre nel salone sottostante alla Chiesa della Trasfigurazione, incontro per i genitori della quarta e terza elementare. Vorrei che fosse un incontro importante, il più importante che abbiamo vissuto fino adesso, con gioia ed entusiasmo, vorrei guardare insieme a voi al 2023, all'impegno per il catechismo, alla gioia con la quale vogliamo vivere il catechismo, non solo i ragazzi, ma anche noi catechisti, sacerdoti, ma anche voi famiglie. Se per caso non potete venire oggi, allora potete cambiare il giorno, cioè per un'impossibilità venire domani, oppure coloro che non possono venire domani per la terza e quarta, sono invitati a venire oggi. Le famiglie che hanno due ragazzi, ragazzi al catechismo, in classi diverse, possono venire pure in questa sera o domani sera. Se non potete venire, mandate per favore l'altro coniuge, oppure il nonno, oppure un parente molto vicino alla famiglia, perché veramente ci terrei che ci fossimo tutti, anche coloro che non hanno avuto mai l'opportunità di incontrare le catechiste. Vi auguro tutto il bene. Vi auguro tutto il bene.